Buonasera a tutti, sono Francesca Fossatelli, la fondatrice di Free Finance e oggi è la quarta puntata, il quarto appuntamento del corso base sulla finanza per neofiti. Anche oggi, come nel primo appuntamento, mi aiuta Alessandro Pravan in tutti i concetti che andremo a vedere oggi. Ciao Alessandro e buongiorno a tutti. Ciao Francesca, grazie e buonasera a tutti quanti. Perfetto, direi di partire. Io come solito vi ricordo che il corso consiste in 7 appuntamenti e che ogni puntata è registrata e può essere rivista sul canale YouTube di Free Finance. Le slide che presentiamo oggi, per chi appunto è connesso in diretta live, le può scaricare direttamente dal pannello documenti di Cotu Webinar, altrimenti si possono poi ritrovare successivamente all'interno del sito di Free Finance, quindi freefinance.biz. Oggi parliamo di, potete trovare anche all'interno delle slide dei due link in cui riandare a vedere il primo e il secondo appuntamento. Oggi parliamo di azioni, che è la prima asset class che andiamo a toccare, anche perché è un asset class, se vogliamo, fondamentale e basilare rispetto a tutte le altre. L'investimento in azioni rappresenta anche il primo, diciamo, la prima asset class con cui si interfaccia un po' l'investitore neofita, perché quando inizia ad investire, probabilmente proprio perché vuole iniziare, diciamo, a fare dei rendimenti un po' più alti, si interfaccia con l'investimento azionario. Ma partiamo da un concetto base, ossia la società, che è il concetto fondamentale per chi studia economia, ma che deve essere conosciuto anche per capire poi che cos'è un'azione. La società ha un contratto regolato dal codice civile, mediante il quale due o più persone mettono insieme dei beni o dei servizi per l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Quindi, diciamo, tutti noi, magari, se io e Alessandro vogliamo aprirci una società, quello che facciamo è mettiamo insieme dei beni o dei servizi che abbiamo e li mettiamo a disposizione di quelli che saranno i nostri clienti, creando così un'attività economica. A che scopo lo facciamo? Per avere dei profitti, quindi per dividere poi gli utili all'interno, diciamo, della partecipazione societaria. In Italia abbiamo diverse tipologie di società. Le società di persone, che sono la società semplice, società in nome collettivo e società in accomandità semplice, e le società di capitale, società per azioni a responsabilità limitata, in accomandità per azioni cooperative di mutuo soccorso. In realtà, quello che ci interessa capire delle società in questo corso è che fondamentalmente le due tipologie di società si differenziano per chi risponde alle obbligazioni della società. Cioè, quando la società, ad esempio, va a prendere un mutuo o comunque ha un debito con una controparte, al fine di ripagare quel debito, nel caso delle società di persone, quando, diciamo, non bastano i capitali della società, possono essere utilizzati i capitali dei soci stessi, e quindi si parla di autonomia patrimoniale imperfetta, mentre nelle società di capitale, delle obbligazioni della società risponde solo la società stessa. Quindi, diciamo, non si può aggredire il capitale dei soci, e quindi c'è un'autonomia patrimoniale perfetta. Questo è abbastanza importante proprio perché, quando parliamo di azioni, parliamo delle singole parti in cui è diviso il capitale di una società per azioni, quindi una società di capitale, quindi dove c'è l'autonomia patrimoniale perfetta. Il titolare dell'azione, quindi, è come se possedesse un pezzetto della società, con tutti i diritti e tutti gli oneri. Ovviamente le azioni sono anche un titolo di credito, quindi uno strumento che incorpora il diritto e che ne permette anche la trasmissione, quindi nel momento in cui acquisto un'azione, io posso rivenderla e quindi trasmetterla a un'altra persona che vuole acquisire quella stessa azione. Le azioni possono essere quotate o non. Quindi, se le azioni non sono quotate, ovviamente devono essere scambiate tra un socio della società che le mette in vendita e una persona, un acquirente, diciamo, interessato ad acquistarle. Mentre nel caso in cui le azioni sono quotate, è molto più facile acquistarle o venderle perché sono messe su un mercato. Quindi, fondamentalmente, è possibile la negoziazione tra diverse controparti in maniera telematica. Perché esistono le azioni? Perché, fondamentalmente, questa è la parte più importante. Quando, diciamo, si crea una società, nel momento in cui si vuole iniziare a crescere e quindi a finanziare la crescita, si può decidere o di emettere debito e quindi di indebitarsi, quindi, per esempio, aprire un mutuo o magari anche emettere strumenti di debito, oppure emettere equiti e quindi, diciamo, fondamentalmente collocare delle azioni, emettere e collocare delle azioni. Attraverso le azioni, fondamentalmente, quello che facciamo è che andiamo ad acquisire dei soci per la nostra società. Quindi, se nella società Pinco Pallino, che io e Alessandro avevamo aperto per, diciamo, fare profitti, a un certo punto abbiamo bisogno di capitali o andiamo a prenderci un mutuo o quello che facciamo, facciamo entrare dei nuovi soci, come? Emettendo, appunto, delle azioni. Quindi, è molto, diciamo, interessante come argomento, secondo me, proprio perché chi è azionista tendenzialmente è un po' anche imprenditore, perché sta investendo non come un obbligazionista, quindi solo per ricevere un certo rendimento, ma sta investendo e credendo nella crescita dell'azione stessa. Quindi, ci sono degli oneri e dei diritti dell'azionista. Da un lato, l'azionista, come abbiamo detto, è un socio, così come gli altri soci, se vogliamo, fondatori della società, e non un creditore, e quindi partecipa a tutta l'attività economica della società, sopportandone anche il rischio in caso di perdita. Il rischio, ovviamente, è limitato al valore delle azioni possedute, perché, come abbiamo detto, c'è l'autonomia patrimoniale perfetta. I diritti sono, ovviamente, la percezione dei dividendi, se distribuiti dalla società, e, diciamo, fondamentalmente che cosa succede? Che la società, se produce degli utili, può distribuire una parte di quegli utili ai soci, e quello è il rendimento, diciamo, oltre all'apprezzamento della quota, il rendimento che ha l'azionista. Ci sono anche, c'è un'altra possibilità che è molto importante, che è quella di esprimere il proprio voto nelle assemblee, ovviamente, diciamo, anche qui cambia a seconda della partecipazione che poi si ha, perché ci sono poi azioni, magari, che non prevedono il diritto di voto, o altre che, magari, hanno anche il diritto di voto plurimo. E, ovviamente, magari, se si possiede un'azione singola, non si va a esprimere il proprio voto, proprio perché il proprio peso, magari, è un po' più piccolo, però questa è una possibilità che hanno gli azionisti. La possibilità di consultare, ovviamente, i libri sociali e di impugnare le derivere assembleari non valide. Come vediamo, abbiamo diverse tipologie di azioni. Le azioni di risparmio, che non danno il diritto di voto, ma, fondamentalmente, hanno dei privilegi sulla distribuzione dei dividendi. Quelle privilegiate, che prevedono una prevalenza nella distribuzione dei dividendi a fronte della limitazione del diritto di voto nelle assemblee straordinarie, quelle a voto plurimo, che sono tipiche delle società non quotate, ma possono esserci anche per le società quotate, se erano già previste prima della quotazione all'interno dello statuto, e poi le azioni a voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, e quindi, diciamo, abbiamo queste diverse tipologie, tendenzialmente, diciamo, le azioni che andiamo ad acquistare sul mercato sono le azioni di risparmio. Una cosa molto importante è capire come acquistarle, perché poi, fondamentalmente, magari ci piace un'azione, abbiamo studiato l'azione, vogliamo acquistarla, se l'azione è quotata, la possiamo acquistare direttamente sul mercato azionario. I mercati azionari possono essere divisi in tre categorie in Italia, il mercato regolamentato, il sistema multilaterale di negoziazione, il cosiddetto MTF, Multilateral Trading Facility, e l'internalizzatore sistematico. Borsa italiana è un MTF, quindi, diciamo, da mercato regolamentato è passato all'MTF, quindi, e la maggior parte, diciamo, delle negoziazioni avvengono sempre su MTF regolati. I mercati, ovviamente, sono mercati, diciamo, regolati, come abbiamo detto, quindi, quando noi vogliamo andare a acquistare un'azione, stiamo attenti, perché magari troveremo miliardi di pubblicità, no? Sull'investire in azioni, attraverso degli strumenti che magari non sono regolati, quando in realtà si possono acquistare le azioni direttamente sul mercato regolato, quindi, in questo caso, su Borsa Italiana. E li si acquistano attraverso, diciamo, intermediari autorizzati, cioè banche, sim, che operano, diciamo, nel sistema finanziario con una regolamentazione. Questo è molto importante, perché, come dicevamo, magari abbiamo accesso all'azione o alla performance azionaria attraverso gli strumenti non regolati, quando in realtà facilmente, con intermediari autorizzati, possiamo acquistare le azioni. È una cosa molto semplice, perché apre un conto titoli, la prima cosa che riesce a fare senza chiedere nessuna autorizzazione, senza quasi compilare alcun questionario, è appunto quella di acquistare delle azioni. Non so, Alessandro, se volevi aggiungere qualcos'altro su questi concetti iniziali. Sì, una cosa molto veloce, sugli internetizzatori sistematici, quindi, essenzialmente, per banalizzare il concetto, io ho tutte le azioni che voglio comprare, Intesa, Stellantis, Eni, e così via, io le trovo sempre sul mercato regolamentato. Gli internalizzatori sistematici, tendenzialmente, sono quelle banche che non hanno le azioni quotate, non so, una BCC, piuttosto che... Vox, per esempio, è una banca che è abbastanza presente, e non è quotata, ma ha comunque delle sue azioni, quindi ha un suo mercato interno, all'interno dei quali io posso scambiare. Detto questo, soprattutto Maria Tieneofita, io consiglio di stare molto più sul mercato regolamentato, perché, non ricordo se l'hai già citato, o se c'è scritto in seguito, le azioni quotate sul mercato regolamentato hanno una liquidità molto diversa rispetto alle azioni non quotate nel mercato regolamentato, appunto, perché sul mercato ho sempre una controparte con cui scambiare, quindi nel momento in cui decido di vendere, di liquidare, ho sempre, monetizzo sempre il mio investimento, sulle azioni non quotate è molto più difficile, per stare sempre sul mio territorio, Veneto Banca e Popolare di Vicenza sono un esempio, erano azioni non quotate, dove io rivendevo essenzialmente alla banca, fino a un certo punto, poi non ho potuto rivendere, cosa che difficilmente invece sul mercato regolamentato accade. Invece, tornerei a fare un focus su quanto dicevi prima, quindi abbiamo visto le varie tipologie di società, le società di capitale appunto sono quelle su cui ci focalizziamo oggi, e in particolare le SPA, quindi società per azioni, emettono azioni e emettono appunto uno strumento che è partecipativo, quindi che mi permette di partecipare alla società. Se io ho azioni di Stellantis, sono paragonabile, in modo ovviamente molto minore, a Elkan, cioè ho delle azioni tanto quanto, poi io ne ho una e lui ne ha qualche milione, però diciamo che lo scopo è quello, io divento socio a tutti gli effetti della società. Con che beneficio compro un'azione e scelgo un'azione? Per due motivi, la prima è perché penso che il prezzo salga, perché se penso che il prezzo scende ovviamente non la compro, la seconda è per recepire dei dividendi. Cosa può essermi chiesto in cambio? Può essermi chiesto eventualmente in caso di aumento di capitale, quindi qualora la società avesse bisogno di nuovi soldi, perché deve fare investimenti, o perché è successo qualcosa del business aziendale, ovviamente può essermi chiesto di versare il nuovo capitale, altrimenti se non dovessi farlo, la mia quota va a ridursi, perché ovviamente c'è gente che porta altri capitali, di conseguenza se io non ne metto di miei, la mia quota un po' si riduce. Quindi ecco, questi sono gli scenari che si prospettano di fronte a chi investe in azioni, che come abbiamo visto, sono una tipologia di società, l'altra diciamo prevalente che vediamo in Italia è l'SRL, dove però parliamo di quote e non di azioni, quindi non sono quotate ma fanno parte del mercato e quindi è molto più difficile investirci. Anche se, se mi ponete una parentesi veloce, oggi ad esempio tutto quello che vediamo nel crowdfunding, e quindi la raccolta di capitali per startup o PMI, lì tendenzialmente sono quasi sempre SRL e poche volte SPA, quindi anche l'investo in quote, divento socio di una piccola azienda in questo caso, e ho quota di un SRL, tendenzialmente poche volte di un SPA. È l'unico caso nel mercato che mi permette di investire in quel tipo di società. Tendenzialmente se no parliamo sempre di SPA, azioni con ottica di crescita del prezzo, rischia dei dividendi, quindi divisione tra i soci dell'utile che viene prodotto dall'azienda, e eventualmente aumento di capitale qualora lo sostane avesse bisogno. Perfetto. Diciamo che è stato molto chiaro, secondo me un'idea che deve passare appunto quando investo in azioni, punto un po' alla crescita dell'azione, perché effettivamente o investo diciamo ad un prezzo basso, e quindi reputo che il prezzo dell'azione sia più basso rispetto al suo attuale valore, e quindi punto a una crescita solo del prezzo del valore dell'azione, oppure investo proprio perché credo in una crescita, quindi credo che effettivamente la società andrà bene, produrrà utile, e quindi pagherà indietro il dividendo. E questo è fondamentale da capire, perché questi sono gli unici due modi con cui guadagnare sulle azioni. Quindi o si apprezza l'azione, o ricevo il dividendo. Questo è l'unico guadagno che posso avere dall'azione. O entrambe le basso contemporaneamente. Assolutamente. Che sarebbe il caso ideale. Partiamo da alcuni concetti base, perché ovviamente quando si valuta l'investimento azionario, la prima cosa che si va a fare è vedere il bilancio, quindi come è messa l'azione, quindi ci chiediamo un po' qual è lo stato di salute dell'azione, e quindi per capire se poi, da un lato, l'azione 1 è apprezzata bene, quindi se il suo valore di mercato è coerente oppure inferiore o superiore rispetto al valore intrinseco, quindi al fair value, se vogliamo, dell'azione, e 2 capire se ci pagherà in futuro dividendi. Quindi l'obiettivo dell'analisi di bilancio, quindi l'analisi fondamentale, è quello fondamentalmente di capire se l'azione vale la pena fondamentalmente acquistare l'azione, o magari detenerla in portafoglio, e quindi nel caso poi venderla. Parliamo da... Per rompo, noi oggi parliamo prevalentemente di questo, quindi dei bilanci, di come valutare un'azione, degli inti di bilancio che vedremo dopo, e così via. Diciamo che se uno volesse proprio analizzare un'azione prima di comprare, deve fare due tipologie di analisi, e io lo dico sempre, non devo analizzare ogni singola voce di bilancio, vedere le proiezioni, cioè per scegliere un'azione, almeno però devo fare due cose, vedere un po' di analisi tecnica, quindi capire il grafico, quindi capire dove si trova il prezzo, se è sui suoi massimi, se è sui suoi minimi, se è cresciuto tanto e poi è sceso, o se viceversa, quindi vedere come si è mosso il prezzo negli ultimi periodi, affiancato sì, a un'analisi minima di bilancio, quindi devo vedere degli indici, come si sono mossi nel tempo, perché lo vedremo dopo, un indice che oggi è buono, non mi basta per capire come è un'azienda, devo vedere anche come si è mosso rispetto all'anno prima, e eventualmente alle prospettive per l'anno successivo, quindi analizzare queste due cose, quindi una breve analisi grafica, per vedere dove il prezzo, e un po' di bilancio e di indici, e quindi analisi fondamentale, mi permette di farmi un'idea su come si è mossa e potrà muoversi poi in azione nei prossimi mesi. Perfetto, e aggiungo un altro parametro, anche l'analisi settoriale, che per esempio è una delle cose che io prediligo, parto sempre dal settore per poi scegliere l'azione, quindi è un po' il passo prima del scegliere l'azione, ma nel momento in cui andiamo a analizzare, per esempio, un settore, dobbiamo andare a vedere poi tutti quelli che sono i peer, quindi tutte quelle azioni che possiamo considerare comparabili, o che comunque possono essere considerate come alternative all'investimento in quell'azione stessa, e queste sono cose che poi vediamo anche successivamente. Faccio una premessa, prima che entriamo nel, diciamo, nel clou del bilancio, ovviamente oggi vediamo alcuni concetti chiave, base, di bilancio, e alcuni indicatori. Ovviamente, questi non bastano, quindi queste, quest'oretta e mezzo che avremo oggi, non ci basta per avere le basi di analisi di bilancio, che tra l'altro sono anche, quando uno studia finanza, sono anche gli esami quelli più, più grossi che durano anni praticamente, quindi effettivamente oggi non riusciamo a consolidare il tutto in un'ora e mezzo, però faremo successivamente dei video, proprio di analisi concrete di bilancio, in modo tale che riuscite magari anche a vedere quali sono gli indicatori che vanno usati in un caso o nell'altro, oggi vediamo, diciamo, i principali e i più importanti, e vediamo proprio le basi di analisi di bilancio. Ovviamente, vanno approfondite, tutto questo va approfondito, perché secondo me l'analisi azionaria è fondamentale poi per qualsiasi investimento, investimento in certificati, investimento magari anche in indici tematici, in etf, quindi lo vedremo poi successivamente, ma saper leggere più o meno dove sta andando il business, se l'azione vale la pena oppure no, aiuta sicuramente a, diciamo, ad essere un investitore di successo nel lungo periodo. Quindi partiamo dal bilancio. Il bilancio di una società è costituito dallo stato patrimoniale, che in inglese troviamo sotto il nome di balance sheet, conto economico, ossia l'income statement, e la nota integrativa. In più c'è un documento che è di fondamentale importanza, che è il rendiconto finanziario, il cash flow statement, dove ci sono appunto tutti i flussi di cassa della società, e che è abbastanza importante proprio perché nel cash flow statement potremmo trovare delle cose che magari ci vanno a confermare delle view che abbiamo trovato nel conto economico e nel balance sheet, quindi nello stato patrimoniale, oppure andarle a confutare. Quindi il cash flow statement è un po' l'ultimo step di chi analizza le azioni per capire se effettivamente aveva letto bene tutti gli altri dati. Partiamo dallo stato patrimoniale, che rappresenta una fotografia della situazione aziendale alla chiusura dell'esercizio, quindi ogni anno abbiamo un esercizio, l'esercizio annuale, e poi ogni trimestre diciamo abbiamo le cosiddette trimestrali, in cui andiamo fondamentalmente a fare una foto di quello che ha la società, quindi di tutti gli asset e quindi tutto quello che è la sua situazione patrimoniale e finanziaria, sia in attivo che in passivo, quindi anche tutti i debiti. La differenza tra i due è appunto il patrimonio netto, quindi nella parte destra dello stato patrimoniale, e vedremo tra poco proprio un esempio che potete anche scaricare dalle slide, c'è l'attivo, quindi tutti i beni, le proprietà possedute dall'azienda, quindi per esempio se vado a produrre scarpe, avrò la mia fabbrica di scarpe con i miei macchinari, le mie attrezzature, avrò anche magari i crediti nei confronti di terzi, per esempio i crediti nei confronti dei miei clienti, avrò le mie disponibilità liquide, quindi la cassa con cui poi vado magari a comprare anche diciamo i lacci delle scarpe o la pelle per creare le scarpe. E quindi tutto quello che è l'attivo, quindi tutto quello che oggi ho in mano per produrre le mie cose, lo trovo nella parte destra del nostro bilancio. Nella parte sinistra invece ho il passivo e il patrimonio netto, quindi le passività sono tutti i debiti dell'azienda verso terzi, quindi i fornitori e ovviamente anche le banche. Il patrimonio netto invece è il debito verso gli azionisti, quindi è il diritto dei proprietari, quindi dei soci, gli azionisti, sui beni dell'azienda attraverso gli utili, le riserve e il capitale sociale. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro Ale su questo, ma secondo me abbiamo già... No, però no, magari quello vediamo con il modellino eventualmente. Perfetto. Mentre dall'altro lato, quindi lo stato patrimoniale ci fa vedere un po' la solidità dell'impresa, cioè quello che noi oggi abbiamo, quindi se oggi non arriva neanche un euro da una vendita, che cosa abbiamo in mano? Lo vediamo nello stato patrimoniale. Dall'altro lato, il conto economico invece ci fornisce le informazioni in merito alla situazione economica della società, quindi che cosa sta succedendo, diciamo, sui costi, sulle vendite, quindi andiamo a vedere come si sta muovendo l'azienda, quindi in poche parole. Quindi abbiamo on top, quindi nella parte superiore, i ricavi, quindi se siamo un'azienda di scarpe, quante scarpe abbiamo venduto, a che prezzo e riusciamo a capire qual è, diciamo, la nostra entrata da ricavi e sotto abbiamo i costi, quindi tutto quello che noi spendiamo per produrre quelle scarpe, fondamentalmente, quindi sia i dipendenti che tutti i costi di produzione. Alla fine troveremo un qualcosa che può essere positivo o negativo, l'utile o la perdita di esercizio, che è quello che rimane alla società dopo tutta la sua attività economica, quindi fondamentalmente la differenza tra ricavi e costi. Tra l'altro, diciamo, l'utile e la perdita che è appunto il risultato, viene detto il risultato di esercizio, è anche il punto di raccordo tra il conto economico e lo stato patrimoniale, quindi è anche quella, quel, diciamo, valore che vediamo su entrambi i documenti di bilancio. Se l'utile viene distribuito, ovviamente diventa un dividendo, altrimenti rimane il patrimonio dell'azienda e può essere utilizzato negli esercizi successivi. Vedo che ci sono alcune domande, ok, sono tutti saluti di persone che arrivano, perfetto. Vediamo quindi un template. Carito, quello che hai detto, l'utile è l'unica voce che compare in tre le parti e che fa un po' da collettore. Torno a ribadire una cosa che ho detto prima, quindi mentalmente lo stato patrimoniale è la foto al 31-12, quindi con la chiusura dell'anno contabile, il conto economico invece si vivece all'anno, quindi tutti i movimenti che ci sono stati nel corso dell'anno, 1 gennaio e 31 dicembre, vanno a sommarsi e a compormi in qualcosa che è dinamico, mentre lo stato patrimoniale è la fotografia statica al 31 dicembre della situazione con tanto di utile o perdite appunto riportato dal punto economico. Non so se ce lo vuoi illustrare tu Ale questo, che fondamentalmente è un template se vogliamo, che tra l'altro è un template di Wikipedia, ma secondo me è fatto benissimo, quindi l'ho preso direttamente da lì e secondo me è molto interessante proprio perché riporta un po' tutte le voci che si potrebbero mai trovare su un bilancio direi. Ovviamente do una piccola informazione, anche le regole di bilancio variano da paese a paese, quindi ci sono dei principi di bilancio secondo cui valutare le diverse partite se si è in Italia, se si è negli Stati Uniti o se si utilizzano diciamo dei principi più internazionali, quindi in ogni caso anche il calcolo magari cambia da Stato a Stato e questa è una cosa che vedremo sui webinar di approfondimento proprio sulla materia. Però questo è quello che troviamo poi su Wikipedia è la versione italiana. Sì, ci segnala Claudio appunto sì c'era un refuso prima a destra con sinistra in questo caso avete a sinistra l'attivo a destra passivo e patrimonio netto e appunto questa è una delle tante riclassificazioni perché poi appunto ci sono varie modalità di esporre i dati come vedete sulla sinistra è tutto l'attivo quindi tutto quello parliamo di Stato patrimoniale quindi fotografia il 31 dicembre è tutto quello che dà valore quindi che è attivo per la società e quindi è diviso per macro aree e poi sotto vediamo le singole specifiche crediti verso social ancora da versare immobilizzazioni come vedete già le immobilizzazioni sono divise in tantissime tipologie abbiamo le immateriali abbiamo le materiali abbiamo le finanziarie poi non so se scendendo sotto ce ne sono altri vedete all'interno delle finanziarie poi ci sono diverse sotto tipologie ulteriori quindi partecipazioni in altre imprese credito verso imprese collegate controllate e controllanti azioni proprie quindi tutto questo è la parte statica in più poi c'è l'attivo circolante che è relativo invece all'attività corrente quindi tutto quello che è successo in quest'anno passato ad esempio i crediti li vediamo divisi per tipologia quindi clienti imprese collegate imprese controllate controllanti tributari entro i 12 mesi oltre i 12 mesi quindi anche la distinzione per orizzonte temporale e le attività finanziarie disponibilità liquide come vedete ci sono tantissime voci che vanno che vanno a comporlo dall'altra parte invece nella prima parte in alto troviamo il patrimonio netto quindi questo è diciamo che è il portafoglio dell'azienda conformato dal capitale sociale quindi quello che è stato il versamento dei soci o degli azionisti successivi e le varie riserve quindi vediamo tante tipologie essenzialmente le riserve sono previste dalla legge in diverse misure in base anche al patrimonio societario e l'utile può essere che venga anche accantonato riserve per sia eventi ordinari quindi devo prevedere che una certa quota di utile sia destinato a riserve ma anche eventualmente per qualcosa di straordinario non so è prevista una svalutazione per un determinato bene piuttosto che per un determinato settore e quindi nell'utile di quest'anno vado ad accantonare qualcosa per eventualmente qualcosa che succederà per fare un esempio concreto Bayer per esempio che ha avuto una causa con Monsanto e ha dovuto pagare tot milioni di dollari per risarcire chi è stato vittima di questo di questo farmaco aveva accantonato utili per svalutazioni quindi per per rimborsare appunto queste chi aveva fatto causa a Bayer in questa causa quindi tutto quello che è straordinario può essere comunque accantonato da utile e destinato a riserve e lo vedete ecco qui è specificato sui fondi per rischi e oneri quindi per rischi specifici per imposte per esempio quando ci sia una tassazione differita i debiti invece che è l'altra voce di passivo anche qua lo vedete diviso per tutti quelli che sono le possibili tipologie di debito quindi per le obbligazioni con le diverse tipologie per i finanziamenti per i fornitori per le imprese collegate per i tributari quindi qui dentro poi troverete una riga con tutte le specifiche di singoli titoli non devono sempre necessariamente esserci tutti cioè può essere anche qualcuno stavo per dire non abbia debiti verso banche ma non è possibile magari che non abbia debiti tributari perché magari le tasse le ha pagate tutte fino ad oggi quindi queste sono tutte le tipologie di voce che possono esserci potrebbe essere che analizzando un bilancio le trovate molto meno molto meno rispetto a queste infatti questo è un bilancio omnicomprensivo quindi tendenzialmente riassume quasi qualsiasi cosa possa succedere su un'azienda poi anche sul lato dell'attivo dove ci parliamo delle immobilizzazioni dipende anche dal business di un'azienda c'è chi di immobili ce li ha e chi non ce li ha c'è chi di macchinari ce li ha e chi no quindi in base poi anche alla tipologia di business avremo più o meno voci che vanno che vanno a comporre il bilancio invece il conto economico lo vediamo proprio risultato in modo diverso è detto scalare perché vado un po' alla volta a dedurre tutte quelle che sono le voci in alto appunto la prima è il valore della produzione quindi tutto quello diciamo che crea valore o che viene incassato dall'azienda dal quale nel tempo vado poi a togliere il resto quindi vado a toglierci prima i costi e poi le altre voci che vedremo analizzeremo poi cosa rimane quindi se io dal valore della produzione tolgo i costi della produzione diciamo che vado a togliere dalle mie entrate tutte quelle che sono le uscite collegate alla mia cosiddetta attività caratteristica quindi il mio business principale facendo esempio delle scarpe prima se io produco scarpe i ricavi che ho ce li ho dalla vendita delle scarpe e i costi ce li ho relativi alla produzione delle scarpe il personale i materiali i macchinari gli immobili quindi tutto quello che rientra dentro alla produzione caratteristica va nella prima nella prima voce questo mi dà il margine operativo lordo poi lo vedremo nel dettaglio quindi questa è la prima voce in realtà che io vado ad analizzare quindi la mia attività mi ha fatto tot di ricavi e mi è costato tot qual è la differenza si presume sia positiva perché altrimenti non ha senso tenere aperta l'azienda e poi da quello andiamo a togliere tante altre voci per avere altri indici però diciamo che questo è il primo punto quindi ho questi ricavi ho queste spese relativamente al mio business principale e è una cosa che va considerata relativa al business principale perché se io ad esempio ho il mio business principale le scarpe che mi fanno perdita ma poi ho investimenti finanziari che mi fanno molti profitti magari può essere che il mio utile sia positivo ma in realtà non sto facendo scarpe sto governandosi i mercati e quindi bisogna valutare anche queste tipologie di situazioni perché può essere magari dall'altra parte oppure ho un business e ho tanti immobili che poi vado a destinare e mettere a rendito magari gli immobili mi fanno più reddito di quello che mi produce l'azienda questo ovviamente va analizzato non è un indicatore di un'azienda sana perché significa che il mio business principale non mi genera ricchezza se scendiamo se scendiamo velocemente poi io passerei magari agli indici che lo vediamo più nel dettaglio come vedete l'ultima voce è utile per l'esercizio quindi se io parto dai ricavi ci tolgo i costi ci tolgo gli ammortamenti le svalutazioni gli interessi finanziari le tasse l'ultima voce che mi rimane è utile per l'esercizio come vedete anche dal punto di vista grafico tendenzialmente la perdita è riportata da parentesi perché è un valore negativo e quindi questo mi dice come è andato il mio anno se ho una voce positiva significa che nell'anno 2021-2020 e così via ho generato ricchezza se invece ho una perdita significa che la totalità dei miei costi ripeto la totalità quindi relativa alla gestione caratteristica gli oneri finanziari la restituzione dei mutui e così via mi ha generato più costi che ricavi e quindi avrò generato una perdita di esercizio perfetto direi e il template ovviamente lo potete cliccando scaricare dalle slide magari anche per ripercorrere tutto quello che ci siamo detti finora e diciamo Alessandro ti lascio poi la parola proprio per le prime cose da dedurre dal conto economico che poi ne abbiamo parlato quindi il margine operativo lordo esatto appunto dal conto economico riusciamo a ricavare le prime informazioni utili e io ne ho riportate tre essenzialmente poi ce ne sarebbero altre ma insomma come dicevi tu prima oggi partiamo da quelle che sono fondamentali vedremo poi anche gli indici di bilancio io ho riportato quelli che sono i principali che ci interessano oggi per farci un'idea ce ne sono tantissimi davvero analizzarne troppi in questa serie mi sembrava di mettere troppo carne al fuoco quindi concentriamoci sui principali partendo dal primo dicevo il margine operativo lordo troverete varie sigle che sono eventualmente MOL o EBITDA dove EBITDA sta per Earning Before Interest Taxis Depreciation Amortization quindi diciamo i guadagni prima di aver pagato gli interessi le tasse le svalutazioni e gli ammortamenti quindi cos'è? è quello che dicevo prima la prima voce tutti i ricavi della produzione meno tutti i costi della produzione quindi è il risultato dell'attività tipica dell'azienda da lì un po' alla volta vado a togliere altre voci il gradino successivo è il risultato operativo o EBIT come vedete rispetto a EBITDA in precedenza cambiano le ultime due voci che non ci sono che sono depreciation amortization quindi svalutazioni e ammortamenti perché le abbiamo tolte quindi io ho il mio MOL o EBITDA ci tolgo gli ammortamenti le svalutazioni mi rimane l'EBIT quindi il risultato è il risultato operativo è il risultato della gestione operativa non comprende le gestioni accessorie qui ad esempio parlavo prima della parte finanziaria se io ho dei costi per interessi che proprio per i mutui o dei guadagni per cui ho investito la mia cassa questo non è compreso un risultato operativo è ancora l'Ord questo è relativo esclusivamente alla mia gestione ovviamente le svalutazioni di ammortamenti cosa sono? se io compro un macchinario presumo che ci metta dieci anni per andare ad assorbire il suo costo quindi ho un ammortamento di dieci anni io andrò nel mio bilancio a riportare questa quota di macchinario per dieci anni quindi vado a togliervi dal risultato perché ipotizzo che quel costo sia quota a parte non tutto nell'anno in cui compro il macchinario ma vado a essere riportato negli anni successivi le svalutazioni anche qua ho un macchinario che pensavo di dover utilizzare per dieci anni in realtà dopo sei anni è già obsoleto quindi vado a a svalutarlo e quindi a portare una voce negativa di bilancio da qui il passo successivo è l'utile netto o la perdita quindi se io dall'EBIT quindi dal risultato operativo ci tolgo le ultime due lettere che sono I e T quindi interessi e tasse quindi tutto quello che sono oneri e proventi finanziari e la tassazione ho l'ultima voce che è l'utile netto o la perdita questo è il risultato finale del mio conto economico quindi sono partito dai ricavi ho tolto i costi ho trovato il moll ci tolgo ammortamenti e svalutazioni trovo il risultato operativo ci tolgo l'interesse quindi tutto quello che è gestione finanziaria e le tasse e trovo l'utile netto perfetto spiegato lo più semplice così secondo me è impossibile direi è un corso di finanza per neofiti quindi cerco di farlo in modo semplice se non dovesse essere insomma ci sono le domande chiedete pure che cerchiamo di di spiegarle in modo diverso ah tra l'altro quando parliamo di oggi sulle domande vedo un approfondimento riserva e sovrapprezzazioni ci chiedono è semplicemente una delle tante tipologie di riserva quindi qualora ci fossero ecco questa voglio poter spiegarlo in modo semplice un sovrapprezzo quindi significa che io devo pagare le azioni di più di quelle di quello che sono valutate oggi e quindi io azienda accantono accantono questo perché magari sono state rivalutate nel corso del tempo con dei parametri diversi sono state magari delle modifiche al bilancio delle acquisizioni eccetera e quindi vado ad accantonare questo per eventuali aggiustamenti diciamo del valore dell'azione quello che vediamo dopo appunto sono le tipologie di indici vi dicevo prima sono di tanti tipi divisi in quattro categorie la redditività la solidità patrimoniale la produttività e la liquidità cosa significano nel dettaglio gli indici di redditività ci dicono la capacità dell'azienda di produrre ricchezza essenzialmente e come questa poi viene destinata la solidità patrimoniale invece è diciamo lo leggo perché insomma è sintomatico come l'azienda è esposta a fattori che potrebbero comprometterla nel medio e lungo termine ad esempio i debiti o le immobilizzazioni lo vedremo dopo con qualche esempio la produttività invece è riferita più all'operatività di tutti i giorni quindi il personale piuttosto che il costo del lavoro e così via gli indici di liquidità invece la situazione finanziaria quindi la capacità essenzialmente dell'azienda di far fronte con la cassa ai debiti quasi sempre di breve oggi vedremo nel dettaglio l'indice di redditività sono quelli più famosi quindi ROE ROE ROS e la leva finanziaria e faremo un breve accenno agli altri perché se io appunto devo dire faccio una brevissima di bilancio queste sono le prime cose da vedere partendo da ROE il ROE è il return on equity quindi la capacità dell'azienda di remunerare l'equity quindi essenzialmente il capitale proprio si calcola come utile netto quindi l'utile che abbiamo visto prima viene prodotto dal conto economico sull'equity quindi sul patrimonio netto dell'azienda indica la convenienza investire nell'azienda quindi questo è uno di quei dati che da solo non mi dice niente ma mi prende significato solo confronto principalmente va confrontato con tre cose va confrontato con il ROE dell'azienda negli anni precedenti quindi per capire storicamente come si è evoluto se quest'anno è un valore alto l'anno scorso è un valore basso significa che nel frattempo qualcosa è migliorato o semplicemente se lo vedo in crescita significa che l'azienda sta migliorando la sua redditività diversamente se lo vedo in diminuzione o se per un anno è un valore totalmente sballato rispetto agli anni precedenti significa che è successo qualcosa se ho 5, 6, 7, 14 probabilmente c'è stato o un netto miglioramento o qualcosa che ha cambiato drasticamente i valori di bilancio seconda cosa è confrontarlo con aziende simili quindi lo confronto con le aziende di settore se la mia azienda ha un ROI dell'8 e le altre aziende hanno un ROI del 10, 11, 12 significa che la mia azienda remunera gli azionisti peggio di come fanno le altre quindi converrà investire nelle altre e non in quello che ho selezionato viceversa se invece il ROI è più alto rispetto a quello di mercato ovviamente significa che l'azienda si sta comportando bene rispetto ai competitor la terza cosa è paragonarlo con l'investimento risk free quindi quel cosiddetto l'investimento senza rischi quindi se io ho il mio capitale e devo investire devo valutare che effettivamente investire in un'azienda che un rischio ce l'ha sia più economico e mi dia maggior profitto rispetto a investire in un asset privo di rischio esempio molto semplice il BTP oggi mi fa il 2% l'azienda mi remunerà il 6% allora vale la pena investire nell'azienda se il BTP mi fa il 2% l'azienda mi fa il 2% e allora a questo punto compro il BTP perché il rischio è nettamente inferiore in caso di perdita abbiamo visto prima può esserci un utile ma può esserci anche una perdita ovviamente il risultato può avere un valore negativo il secondo indice di bilancio che vediamo è ROI quindi il return on investment e è dato dal rapporto tra l'ebit quindi il risultato operativo quindi dicevamo prima lo ribadisco così dicendolo tante volte ci entra 100 di più in testa l'ebit cos'è? ricavi meno costi meno svalutazioni meno ammortamento quindi tutto quello che è relativo alla gestione operativa dell'azienda sul capitale investito medio quindi il totale di quello che è stato investito per generare questo reddito quindi indica quanto gli investimenti effettuati possono generare redditività può essere tradotto come la capacità del management di investire in modo corretto quindi il management dell'azienda come ha destinato questi investimenti e che ritorno adatto sul capitale che ha investito anche qua sempre va confrontato il numero da solo non mi dice niente anche in questo caso ecco questo è un valore che più che magari con i concorrenti andrà a confrontarlo con la storicità dell'azienda quindi che mi permette di vedere come nel tempo questo valore si è evoluto quindi per un goccio d'acqua vedo anche una domanda che diciamo rispondo subito di Andrea che dice chiede fondamentalmente se chi detiene un certificato con sottostanti azioni ha lo stesso diritto di partecipazione di chi detiene un'azione no perché fondamentalmente se detieni un certificato il certificato è legato a una performance di un'azione ma non ha alcun diritto quindi non hai diritto di voto non hai alcun diritto diciamo anche di ricevere il dividendo e quindi non sei azionista se hai un qualcosa che è legato alla performance dell'azione quindi rinunci diciamo ad avere il dividendo ad avere magari anche la partecipazione azionaria quindi votare nelle assemblee proprio per o da un lato avere la protezione o magari avere un rendimento più alto rispetto all'azione stessa quindi quando hai un qualcosa che è legato alle azioni tendenzialmente non hai il diritto delle azioni proprio perché rinunci ai diritti tipici degli azionisti per acquisire qualcos'altro protezione o rendimento invece tornando alle domande chiedo a Domenico che scriveva faccio fatica a capire bene l'ebit se adesso è chiaro se no ci ritorniamo volentieri sopra l'indice successivo è Ross return on sales quindi ritorno sulle vendite c'è sempre l'ebit al numeratore invece questa volta sotto abbiamo i ricavi totali quindi questo ci indica la redditività media unitaria ovvero quanto guadagna l'impresa per ogni euro di vendite quindi dicevamo prima vendite in alto il limite è un po' più sotto quindi togliendo dalle voci quello che resta all'azienda diviso il fatturato totale quindi quanto rimane per ogni unità che poi viene venduta dall'azienda l'ultimo indice invece è il leverage quindi è essenzialmente la leva finanziaria quindi questo ci fa capire quanto l'azienda sta lavorando con capitali propri e quanto con capitali con capitali esterni semplicemente capitale investito su capitale proprio cosa mi dice se andiamo a valutare i valori ho scritto che solitamente non è mai inferiore a 1 perché altrimenti l'impresa avrebbe più capitale proprio rispetto a quanto ha investito facciamo proprio i soldoni esempio molto semplice ho investito 5 milioni di euro ho 10 milioni di euro di capitale proprio in questo caso 5 su 10 è 0,5 quindi inferiore a 1 non succede quasi mai perché attenzialmente l'azienda comunque il capitale lo investe e anzi utilizza spesso spesso quasi nella totalità di casa e anche il capitale terzo per avere più capacità di investimento se è pari a 1 invece molto semplicemente gli investimenti sono finanziati totalmente col capitale proprio compreso tra 1 e 2 significa che gli investimenti fatti sono finanziati a debito con una percentuale inferiore al 50% quindi significa che metà del patrimonio se fosse 2 avrei metà capitale proprio e metà capitale di terzi superiore a 2 la percentuale di debito rispetto ai mezzi propri è superiore al 50% di quanto è superiore poi dipende ovviamente da quant'è la percentuale tra capitale di terzi quindi banche o investitori rispetto a quello dell'equity io qua aggiungo una cosa che diciamo chi studia economia la sa sicuramente ma chi non la studia secondo me è interessante da sapere perché spesso la leva finanziaria viene sempre vista come una cosa negativa ma delle volte non è detto perché poi la società come abbiamo detto da un lato o si finanzia con il debito o si finanzia con l'equity nel momento in cui si finanzia con l'equity ovviamente mette dentro dei soci quindi che hanno delle capacità decisionali che quindi decidono dove vuole andare l'azienda mentre se mette dentro debito deve solo remunerare il debito ma non diciamo non deve scegliere con i debitori dove va l'azienda quindi effettivamente tante aziende magari preferiscono il debito quindi mezzi di terzi piuttosto che diciamo emettere azioni quindi piuttosto che il capitale proprio proprio per mantenere magari anche una loro autonomia decisionale e quindi questa è una cosa che spesso accade sulle società diciamo che non proprio start up diciamo in una fase di sviluppo che ad un certo punto dopo aver messo insieme i primi azionisti si rendono conto magari che l'azienda non riesce a crescere più di tanto nel momento in cui aumenta gli azionisti magari anche prima di una quotazione e quindi vanno fortemente magari sullo strumento del debito questa è un po' una cosa manageriale che secondo me è interessante proprio perché magari delle volte si vedono delle aziende che possono sembrare molto indebitate e ci si chiede perché a quel punto non emettono azioni piuttosto che debito e questa è la ragione perché magari non vogliono inserire dei soci perfetto ecco invece Massimo ci chiede relativamente al rapporto price earning è una cosa che vediamo dopo negli indici successivi quindi poi risponderò direttamente alla domanda vedendo gli indici una cosa che suggerisco a tutti quanti io qui non ho riportato nessun numero cioè non ho detto il ROI va bene se è 5 non va bene se è 10 va bene se è 10 non va bene se è 5 e anche negli indici successivi non ho riportato esempi numerici uno perché appunto su me c'è già tanta carne al fuoco quindi già memorizzare i concetti è sufficiente ma seconda cosa perché insomma può essere un utilissimo esercizio quindi una volta per chi non ha magari ancora dimestichezza una volta visto il webinar di oggi Mari con le slide da fianco prendersi un paio di aziende di riferimento Stellantis Eni Apple insomma aziende molto capitalizzate e andare a trovarsi gli indici considerate che se scrivete ROI Stellantis su Google non sarei nemmeno che ve lo calcolate quindi cercandovi le singole voce di bilancio ma lo trovate però già magari buttarsi giù una tabellina il ROI di un po' di aziende inizio a capire chi ha più produttività chi ha più redditività in base ai vari indice e può essere siccome un buon esercizio anche da fare in seguito alla visione del webinar assolutamente poi tra l'altro diciamo chi il classico azionista e quindi il classico investitore che investe in azioni ha il suo file Excel dove inserisce i dati di bilancio e si calcola tutti i suoi indicatori perché una cosa che appunto forse abbiamo dato per scontato gli indicatori sono fondamentalmente un quoziente tra due fattori che noi prendiamo dai diversi bilanci quindi dai dati pubblici dell'azienda quindi fondamentalmente tantissimi investitori negli anni poi hanno fatto i loro indicatori quindi che hanno preso magari sia a livello grafico ma anche banalmente appunto dai bilanci e proprio per questo chi investe in azioni in generale ha il suo file Excel o il suo programmino con tutti gli indicatori quindi è diciamo proprio per chi parte da zero è così che si fa no? È propedeutico e passo successivo indice di produttività ecco come dicevo prima abbiamo visto nel dettaglio gli indici di redditività perché sono quelli che solitamente si prendono in analisi vi ho citato alcuni esempi per capire più che altro il concetto degli altri quindi indici di produttività parliamo di qualcosa relativo al prodotto quindi alla tipicità caratteristica dell'azienda ad esempio produttività media per addetto quindi ricavi totali o il fatturato o il numero degli addetti semplicemente una divisione che mi fa capire per ogni euro di ricavo cioè scusate dividendo il fatturato totale per il numero degli addetti quindi capire la quota parte per ogni singola persona che ho in azienda e altro esempio l'incidenza del costo del lavoro quindi il costo del personale sul valore della produzione quindi quanto le persone incidono poi sul fatturato totale e sul valore della produzione quindi se mi incide troppo il costo del lavoro se mi incide troppo poco se posso se ho spazio per inserire ancora personale oppure no in base appunto alla valutazione degli indici oltre a questi ce ne sono tantissimi altri il magazzino piuttosto che la rimanenza quindi si può valutare veramente tutto quello che è relativo al business dell'azienda aggiungo una cosa ovviamente su questi parametri dipende tantissimo quale sia il business poi della società perché magari tante società sono diciamo fondamentalmente hanno software e persone tante altre società invece hanno tutta la parte un po' manifatturiera di produzione quindi magari è un diciamo è un valore che cambia da business a business e questo poi secondo me il fattore principale appunto cercare di valutare i diversi indicatori all'interno del singolo business del singolo settore e renderli comparabili tra loro perché è inutile magari andare a valutare magari un indice di intesa rispetto a appunto Stellantis quindi secondo me è molto importante anche questo stressare questo punto anche perché collegandone a quello che ho detto Francesca anche all'interno dello stesso settore automotive un'azienda che è più automatizzata e una che è meno automatizzata ovviamente avrà costi molto diversi se ho più macchine pochi uomini avranno un costo maggiore per i macchinari e se ho più uomini e meno macchine avranno un costo maggiore per il personale ecco secondo me questi sono però magari più indici che vanno bene per un manager che si sia l'azienda quindi che mi farete di capire per un investitore sì so che ci sono secondo me vale la pena analizzare utilizzarli poi loro ci fosse una particolarità non so nel bilancio di quest'anno di Stellantis si è parlato della criticità del costo del lavoro e loro possono andare a vedere gli indici se no tendenzialmente magari mi soffermerei più su altri rispetto a questi che ripeto sono più magari per il gestore dell'azienda per capire dove si sta muovendo e eventualmente come attuare le politiche di sviluppo per correggere il tiro i due che vediamo invece successivi solidità patrimoniale liquidità quindi mi indicano la solidità dell'azienda in termini di solidità quindi in medio lungo periodo più che altro liquidità necessità di breve nella liquidità ho fatto un esempio che è quello più famoso l'indice di liquidità totale dove sopra ho attivi disponibili quindi essenzialmente la cassa e le attività a breve su debiti a breve quindi alla capacità dell'azienda di far fronte ai debiti e alle uscite di breve termine la solidità patrimoniale invece lo dice termine stesso quindi l'indevitamento verso banche creditori e la copertura delle immobilizzazioni quindi quanto è solida l'azienda quanto è esposta verso le banche quanto è esposta verso il credito perché sì non dichiamo che il passivo non è solo la banca se devo dare dei soldi a dei miei fornitori mentre anche quello è una voce di passivo quindi ecco anche questi mi permettono appunto di avere uno sguardo sull'azienda però ripeto partiamo da l'inici di redditività che già analizzare quelli è una buona è una buona base di partenza i successivi invece relativi all'analisi fondamentale ci colleghiamo un po' a quello che ci chiedeva prima Massimo e sono essenzialmente quattro il price earning il dividend yield il payout ratio e il PSO quindi il learning per share questi sono quelli che tendenzialmente si sentono appunto conviene o non conviene investire perché il rapporto prezzo utile è alto perché il learning per share è di questo tipo e così via questi sono essenzialmente come vedete il calcolo considera tre variabili il prezzo dell'azione l'utile e il dividendo poi c'è il numero delle azioni sull'learning per share però tendenzialmente dipendono da queste tre voci prezzo utile dividendo l'utile abbiamo visto come si calcola ormai lo sappiamo il dividendo cos'è? è quella parte di utile che viene erogata agli azionisti quindi faccio 100 milioni di utile vado a destinare il 50% per esempio agli azionisti il 20% il 30% il 70% quello che viene pagato agli azionisti è il dividendo il prezzo ovviamente è il prezzo dell'azione quindi quello che vediamo giorno per giorno che si aggiorano sui mercati con le quotazioni quello è il prezzo da considerare per l'analisi di questi indici partiamo dal primo il prezzo utile quindi questo è semplicemente un rapporto è impossibile da sbagliare perché il nome è la formula quindi prezzo fratto utile il rapporto tra il prezzo dell'azione è l'utile e serve ho scritto principalmente come arma di confronto tra l'azienda e i competitor del settore di riferimento quindi cosa mi permette di capire come la mia azienda genera utili in relazione al prezzo rispetto soprattutto ai competitor perché non rispetto alla storicità secondo me più che altro perché dipende dal momento storico il 2020 per le aziende è stato un anno particolare quindi ha più senso che io confronto quello del 2020 dell'azienda in analisi con i competitor nel 2020 piuttosto che con quello degli anni scorsi ovvio che qualsiasi metodo di analisi va sempre bene in più però mi permette di capire come l'azienda si muove rispetto ai competitor per banalizzare il concetto cosa significa se la mia azione ha prezzo 10 e fa 1 di utile significa che devo avere 10 anni di utile per coprirmi il prezzo io ho scritto deve essere il più basso possibile perché ragionando sempre con numeri semplici se mio utile è 5 anziché 1 ovviamente in 2 anni di utile io ho coperto il prezzo quindi è un concetto che è simile a quello della duration per le obbligazioni quindi quanto ci metto per andare a coprire il prezzo questo è il valore ovviamente diceva prima Massimo spesso si sente dire che un'azione è sopravvalutata perché il prezzo utile è troppo elevato posso chiedere un chiarimento in proposito significa ad esempio nelle azioni che vedremo poi essere grossi quindi quelle che fanno poco utile e magari hanno un prezzo molto elevato questo rapporto ha necessariamente un numero molto grande in realtà più questo olore è piccolo e più è conveniente per l'investitore perché significa che fa tanto utile rispetto al mio prezzo dell'azione questo ovviamente non è un parametro che va analizzato da solo ma va analizzato nel contesto rispetto agli altri il secondo che vediamo è il dividend yield è il dividendo fratto prezzo quindi questa è la capacità dell'azienda di remunerare gli azionisti e indica il peso percentuale del dividendo distribuito rispetto al prezzo dell'azione e con questo se vogliamo invece è lato mio quindi lato investitore ho pagato 10 euro dell'azione prendo uno di dividendo quanto tempo ci metto a recuperare quello che ha investito payout ratio dividendo su utile quindi questo in realtà è ancora lato azienda quindi essenzialmente dice quanto viene distribuito dell'utile rispetto a come dividendo rispetto all'utile realizzato va specificato una cosa un valore basso non è necessariamente negativo in quanto l'azienda potrebbe aver utilizzato l'utile per investimenti destinati alla crescita quindi esempio di prima ho 100 milioni di utile nel libero solamente 10 per gli azionisti i 90 rimanenti non necessariamente è un dato negativo che ho distribuito poco utile posso averli utilizzati magari per investimenti futuri questo dipende dipende come il mercato valuta questo investimento perché un esempio molto recente meta quindi la facebook sta investendo tanto nel metaverso quindi investe investe ha avuto dei dati di bilancio di utile per azione e così via sotto le aspettative appunto perché sta investendo tanto il mercato in questo caso non l'ha presa bene ma in prospettiva invece può essere magari una mossa strategica quindi aver investito tanto in un settore se poi quel settore si rivela vincente mi permette di crescere molto in futuro quindi non necessariamente appunto il fatto che l'azienda non distribuisca la totalità dell'utile ma l'utilizzi anche eventualmente per crescita ovviamente può aiutare infine proprio per dire effettivamente negli ultimi tempi sembra proprio che il non distribuire è un forte utile quindi avere un payout ratio diciamo basso possa un po' penalizzare anche i prezzi delle azioni ed è una di quelle cose che diciamo il corso base di economia ti insegna il payout ratio basso non è una cosa negativa invece quest'anno è stato così è vero è vero si può solo prenderne atto poi si può essere d'accordo oppure no però il mercato in questo momento storico di incertezza appunto non sta non sta premiando le aziende che fanno questa scelta non sappiamo se sarà la scelta vincente lo scopriremo lo scopriremo nei prossimi mesi anni probabilmente però sicuramente il fatto che un'azienda investa tanto e quindi distribuisca meno oggi nel lungo termine se poi gli investimenti sono fatti bene può essere una scelta vincente se gli investimenti non sono fatti bene chiaramente andrà a penalizzare il corso storico dell'azienda sto vedendo se c'erano domande il prezzo è un dato puntuale una media di periodo il prezzo in questo caso si calcola nel momento in cui viene calcolato l'indice e quindi un prezzo puntuale si può anche fare delle analisi periodiche siccome ha senso farlo se c'è una variazione di prezzo molto importante parlavo di facebook che ha perso il 30% in qualche settimana ovviamente lì magari ha senso ricalcolare gli indici con il nuovo dato di prezzo ha meno senso su un'azione come generali che invece è tra 16 e 20 da qualche anno ormai quindi ha senso farlo magari appunto in un'azienda in cui il prezzo si muove tanto meno in un'azienda con un prezzo stabile ok se vogliamo andare alla slide successiva ok questa slide secondo me è molto importante perché ci fa vedere un po' quella che è lo sviluppo che può essere uno sviluppo di un prodotto singolo di un settore o comunque di un'azienda perché è importante perché in realtà l'analisi di bilancio così come tutti gli indicatori variano a seconda di dove è posizionata l'azienda nella sua curva di sviluppo quindi nel suo ciclo di vita se siamo nella fase di start up quindi diciamo nella fase dove c'è un'accelerazione ovviamente che cosa qual è il problema che abbiamo è che probabilmente le nostre vendite saranno basse e probabilmente non si traducono inutili perché è il momento in cui dobbiamo investire quindi anche il momento in cui tendenzialmente andiamo a cercare dei soci per avere più equity e più debito perché è il momento in cui andiamo a comprare le nostre risorse poi abbiamo una seconda fase che è quella di sviluppo l'early stage dove iniziamo ad avere poi le prime vendite ma l'idea che secondo me è molto importante e il messaggio più importante è proprio che gli utili crescono a ritmo più basso rispetto alle vendite quindi se anche le vendite magari per una società che sta crescendo crescono molto velocemente gli utili tendono a crescere a ritmo più basso proprio perché per raggiungere la fase di espansione e maturità tutte le aziende devono investire quindi puntare su se stesse e puntare su se stesse che cosa significa da un lato significa ovviamente indebitarsi quindi prendersi a debito dall'altro lato e quindi ovviamente peggiorare anche tutto un indicatore di solidità patrimoniale dall'altro lato significa anche remunerare meno gli azionisti perché quei soldi servono per investire nella crescita remunerare meno gli azionisti diciamo ha un problema perché l'azionista ovviamente vuole essere remunerato il più possibile quindi fondamentalmente si trova sempre una sorta di equilibrio tra quello che è il rendimento che si può offrire l'azionista e quello che è anche il rischio della società perché ovviamente come abbiamo detto ci dobbiamo indebitare per con mezzi propri o mezzi di terzi per poter crescere quindi abbiamo queste fasi iniziali startup sviluppo ed espansione in cui effettivamente c'è la fase un po' più critica della società in cui ci sono meno azionisti che sono disposti magari anche a mettere soldi sulla società quindi la società effettivamente potrebbe anche essere sottovalutata e potrebbe essere interessante investire proprio nelle fasi iniziali quindi ovviamente nella fase di startup è dove si riesce e potremmo dire che quello può essere magari anche il grafico dell'azione stessa quindi è ovvio che quando la stock magari raggiunge la maturità si muoverà meno e tenderà ad essere meno redditizia per l'investitore è ovviamente più redditizia per chi investe nell'early stage quindi nella fase di startup o nella fase di espansione nel momento in cui si raggiunge la maturità invece quello è il momento tra virgolette della cash cow quindi nel momento in cui la società raggiunge la maturità è stabile nel suo business avrà delle entrate dei cash flow effettivamente positivi che le permettono di bilanciare anche tutto quello che era l'indebitamento nei confronti di terzi ha già i suoi azionisti ha già il suo spazio il suo business e a quel punto può remunerare gli azionisti quindi la fase di maturità è un po' quella fase in cui la società riesce anche a dare più dividendi poi ci possono essere due fasi quindi dopo la fase di maturità o c'è il declino e quindi poi la società tende a morire magari proprio perché effettivamente ha diciamo termina il suo ciclo di vita oppure c'è il rilancio e questo secondo me è molto importante perché diciamo sul mercato vediamo tantissime stock che magari possono essere considerate in una fase di maturità magari non hanno un posizionamento competitivo ottimale quindi non hanno quelle barriere all'entrata così forti da non fare entrare nuovi player e effettivamente devono investire in se stesse per non andare nella fase di declino e quindi per rilanciarsi quindi quello che sta succedendo per esempio nell'ultimo periodo che vediamo è che tante stock che magari tendono ad andare verso la fase di declino invece dovrebbero puntare al rilancio in questo momento per favorire magari anche il prezzo di mercato della stock stessa tendono a dare fuori più dividendo quando magari quel dividendo poteva essere reinvestito sul rilancio quindi queste sono cose da tenere in considerazione perché è vero che da un lato come azionisti vogliamo il dividendo ma dall'altro lato non vogliamo il declino quindi dobbiamo sempre pensare e secondo me è una cosa fondamentale quindi anche se non investiamo nella growth stessa dobbiamo pensare a quale può essere la crescita di lungo periodo di quella società quindi se anche quel business magari oggi è in una fase di espansione quindi in cui può prendere quote di mercato può diciamo ampliare il suo settore di riferimento o se è in una fase di maturità e se quella fase di maturità è verso la fase del declino o se è possibile un rilancio un esempio secondo me diciamo di stock che sta che secondo me ha fatto un percorso molto veloce è Uber che tende diciamo ad avere e secondo me è una stock molto interessante perché ha ampliato il quanto più possibile diversificato le sue aree di business proprio per non andare verso il declino quando il settore diciamo del food delivery così come dello sharing del dei taxi diciamo l'alternativa al taxi andrà poi magari nella fase di declino perché non sappiamo mai effettivamente potrebbe essere un settore dove entrano più player e dove si raggiunge una fase di maturità e a quel punto magari la scalabilità del business diventa sempre più difficile quindi anche vedere come l'azienda si posiziona sui diversi settori secondo me è abbastanza interessante per capire appunto se ci può essere quel rilancio o se si va verso il declino perché il classico investitore che va che inizia ad investire in azioni tende a scegliere la stocca che è nella fase di maturità perché perché paga più dividendi facile ovviamente nella fase di maturità il rendimento da prezzo è più basso quindi è vero che magari c'è più dividendo ma c'è meno rendimento sul prezzo e dall'altro lato il rischio appunto andare nella fase di declino quindi da valutare molto bene abbiamo qualche domanda Andrea ci chiede se esiste un'app che dà indicazioni di analisi per azioni etf degli indicatori spiegati stasera degli indicatori spiegati stasera valgono solo per le azioni non per gli etf che sono uno strumento diverso e mi sembra sia tema delle prossime lezioni come app o siti ce ne sono tantissime piattaforme che danno un'indicazione di valori considerate però che poi ogni piattaforma magari dà delle sue valutazioni quindi c'è chi praticamente è gli indici è una formula quindi è quella se invece poi cercate ad esempio le previsioni degli analisti poi invece ogni piattaforma ha le supervisioni quindi non so se vogliamo fare qualche nome in realtà diciamo ci sono diverse secondo me ci sono diversi software diciamo applicazioni se vogliamo io ho trovata una che secondo me è abbastanza interessante e vedo che ha un prezzo accessibile che è TICR magari la posto anche sulla domanda e secondo me è abbastanza puntuale perché io quello che noto è che ovviamente chi investe magari su poche azioni si concentra su poche azioni conviene andare direttamente nel sito della società e scaricarsi direttamente lì il bilancio perché i dati sono puntuali perché anche magari su siti come investing.com delle volte i dati non sono proprio correttissimi quindi avere diciamo il dato corretto ovviamente quando poi si vanno a investire risparmi direi che è utile ci sono tantissimi siti cioè già google finance yao finance investing.com completamente gratuiti ovviamente io darei comunque uno sguardo al sito ufficiale della società per vedere le diverse poste anche perché cioè veramente con un copy si va in colla dal pdf si va direttamente sull'excel e si hanno già tutti i dati ci consideriamo che su ogni su ogni sito della società alla voce investor relation pubblicano sempre la trimestrale quindi con la trimestrale trovate anche poi il bilancio e l'aggiornamento anche trimestre per trimestre quindi lì è sempre riportato tutto essendoci da quotate ovviamente c'è l'obbligo di pubblicità sui bilanci quindi tutto quello che vedete è ufficiale e collegato a questo secondo me c'è anche la domanda di Rosario che chiede a te Francesca in questo caso ma per bilancio di analisi in caso di dichiarazioni false c'è qualcosa dove verificare la validicità a volte possono falsificare i bilanci ma per un investitore come ci possiamo proteggere un po' il caso Wirecard quindi effettivamente in questo caso non ci possiamo fare quasi niente direi quindi poi partono le class action quando viene fuori lo scandalo però tendenzialmente non possiamo prevedere se c'è un falso in bilancio una cosa che secondo me è molto utile e quelli però sono ovviamente servizi a pagamento è magari leggersi le analisi le ricerche di banca di investimento di analisti che possono aiutare perché magari si accorgono prima di un qualcosa che va storto ovviamente quanto prima non è tanto prima però magari qualche giorno prima potrebbero un po' capire che aria tira e questo magari aiuta proprio per per quel caso il caso Wirecard diciamo ovviamente per esempio in quel caso anche gli analisti non ci avevano preso quindi qualche anno prima c'era stato qualche articolo ma tranne questo diciamo era difficile da prevedere purtroppo quella è una frode praticamente il falso in bilancio è illegale cioè va in galera anche il manager quindi non è proprio un caso che succede tutti i giorni però può succedere il modo migliore per proteggersi da questo caso in realtà è la diversificazione è una cosa che diremo anche successivamente ma per chiunque investe in azioni la cosa fondamentale quindi l'investitore di successo sull'azionario è quello che diversifica questo proprio diciamo non c'è neanche una persona che può dire no non è così quindi è una una verità universale sulla diversificazione per chi investe in azioni anche perché è l'unico modo per proteggersi da i rischi quelli più improbabili come appunto falso in bilancio per esempio e invece non è che ci fanno è un valore indicativo del rapporto appunto tra prezzo e utile ci non abbiamo parlato di numeri in realtà perché appunto che si è collegato da poco quello che dicevamo era intanto di vedere i valori e dovete farlo come esercizio di cercarsene però diciamo che tra 13 e 15 è un'indicazione che si ha più o meno di quello che può essere un valore giusto considerate però varie tantissimo dalla slide che vediamo adesso grow value income quindi dipende dalla tipologia di azienda ci sono delle aziende value che magari hanno un rapporto molto più basso e sono considerate anche sottovalutate appunto per questo motivo magari delle grow in cui ci si aspetta forti crescite per il prossimo anno hanno un prezzo già molto elevato perché scontano gli utili futuri ma in realtà il rapporto è molto elevato e quindi si pensa che il prezzo sia sopravvalutato in realtà vedremo adesso che è proprio il motivo per cui compro un'azione grow perché penso possa crescere ancora di più quindi quello è un po' il range di prezzo dipende tantissimo dalla tipologia di azienda e dalle sue caratteristiche Andrea fa una domanda dice secondo me è interessante capire in che fase è Paypal diciamo per rispondere a questa domanda bisogna sempre fare un'analisi settoriale cioè la prima domanda a cui rispondere è in che business è Paypal quindi da dove arrivano i soldi di Paypal i ricavi di Paypal dopo essersi risposti bisogna fare un'analisi settoriale e capire quanto è attaccabile il business di Paypal quindi se ci sono delle barriere all'ingresso e quindi come è posizionata Paypal e soprattutto qual è la penetrazione quindi il tasso di penetrazione del mercato di Paypal e di tutti i player che possono essere considerati dei competitor Paypal io direi sulla base di questo che è diciamo più verso la fase di maturità diciamo tra espansione e maturità direi nella fase iniziale della curva di maturità proprio perché il tasso di penetrazione del mercato dei pagamenti digitali è molto alto ovviamente non siamo nella fase pura di maturità cioè io la metterei proprio tra espansione e maturità saremo nella fase di maturità quando diciamo il 99% della popolazione ha diciamo accesso al pagamento digitale Paypal è posizionata bene quindi dopo aver diciamo capito più o meno dove è il business bisogna capire anche dove è Paypal all'interno di questo business e direi che Paypal in sé è più nella fase di maturità proprio perché ha già diciamo investito sulla parte tecnologica ha già un tasso di penetrazione molto forte su tutto quello che è il business to business e questa secondo me è la cosa più interessante ed è anche un motivo per cui continuano ad investire in Paypal nonostante scende e secondo me una cosa molto importante da considerare è la barriera all'ingresso effettivamente Paypal riesce anche a modificare magari i prezzi tra l'altro è anche il player più costoso di tutti però nonostante questo quindi nonostante diciamo effettivamente possa riuscire ad alzare i prezzi anche troppo secondo me dall'altro lato riesce a guadagnare sempre di più sui suoi clienti quindi effettivamente magari la crescita dei clienti è più bassa ma guadagna di più dai clienti che ha in casa quindi è per questo io la definirei più verso una maturità che l'espansione questo proprio per spiegare quello che penso di Paypal in dieci secondi però questi sono un po' gli step da fare cioè andare a vedere come è posizionato il settore e come è posizionato Paypal rispetto al settore secondo me la cosa più importante sono ovviamente la resilienza dei clienti cioè quanti clienti rimangono in Paypal o se ne vanno dai competitor e le barriere all'ingresso a livello tecnologico anche di connettività perché banalmente Paypal è connessa con qualsiasi sito quindi queste sono le cose fondamentali quando poi si valuta un'azione cioè se investire sull'azione X piuttosto che Y e poi dopo vi dirò una bellissima frase che io ce l'ho sempre in testa di Buffett che secondo me riporta appieno quello che penso sull'investire magari anche su una cosa che costa secondo me un po' di più ma ha senso investire comunque partiamo da le azioni growth che sono quelle più martoriate dagli ultimi mesi e dalle performance azionari degli ultimi mesi fondamentalmente sono azioni growth crescita in inglese che presentano una forte crescita crescita nella quota di mercato nelle vendite e negli utili come abbiamo detto la crescita delle vendite è sempre più forte quindi è sempre più diciamo inclinata rispetto alla crescita degli utili che avviene sempre diciamo successivamente alla crescita delle vendite questa è una cosa che vediamo su tantissime stock tante stock che magari hanno degli ottimi accordi che sono growth e dove vediamo che effettivamente le vendite crescono molto velocemente ma magari gli utili crescono un po' meno velocemente hanno generalmente dei multipli molto elevati sopra la media del loro settore e investono i loro profitti nella crescita quindi sia tramite ricerca e sviluppo ma anche attraverso operazioni di buyback che sono quelle operazioni in cui si ricomprano fondamentalmente le azioni che si erano messe sul mercato questa cosa è molto importante perché tante volte mi avete fatto la domanda come devo leggere il buyback secondo me è bene perché quando un'azione si vuole ricomprare le sue azioni significa voglio togliere un po' di soci perché adesso effettivamente sono ben finanziata cioè ho i soldi per portare avanti le mie attività non ho bisogno di soldi di terzi e questa secondo me è un'operazione che ci fa capire che l'azione è solida e diciamo è sempre una notizia che dovrebbe essere accolta positivamente non lo è sempre però secondo me è una notizia positiva ovviamente qual è il problema se vogliamo delle azioni growth che raramente pagano dividendi proprio perché devono reinvestire i profitti nella loro crescita e quindi ovviamente non riescono a remunerare immediatamente gli azionisti gli investitori in questo caso sono disposti a pagare un prezzo elevato perché ovviamente non è che noi andiamo a comprare un'azione e questa azione costerà poco un'azione growth dove c'è una crescita della quota di mercato una crescita delle vendite una crescita degli utili perché perché effettivamente sta crescendo e crescendo porta via utili magari anche agli altri competitor oppure amplia la sua quota di mercato aumenta diciamo la torta e quindi anche il mercato quindi questo che significa che in realtà non costano poco le growth tendono a costare diciamo tanto rispetto ai dividendi per esempio che distribuiscono però perché gli investitori investono nelle growth perché scommettono su un'ulteriore crescita di queste azioni infatti quando si va ad investire in azioni growth la cosa fondamentale che si va a vedere è qual è è la crescita negli anni futuri quindi crescita delle vendite crescita degli utili crescita della quota di mercato quali sono gli investimenti che hanno fatto le growth per aumentare questa crescita sono ovviamente le azioni più rischiose perché perché effettivamente se quella crescita non si realizza tu stai pagando come azionista per una crescita se quella crescita poi non si realizza effettivamente hai pagato di più di quanto valeva quell'azione quindi effettivamente sono le più rischiose ma sono anche quelle su cui si fanno i maggiori rendimenti perché è chiaro che il rischio va sempre a braccetto con il rendimento invece le value sono delle azioni che diciamo sono nella fase di maturità tendenzialmente possono essere anche nella fase leggermente spostata verso il declino che hanno magari perso l'interesse degli investitori perché affrontano delle difficoltà o a causa di cambiamenti a livello fondamentale strutturale o semplicemente perché gli investitori si concentrano su altre tipologie di azioni per esempio le growth quindi diciamo l'anno scorso per esempio alcune azioni che poteva che magari quest'anno sono tornate interessanti potevano non essere più interessanti proprio perché gli azionisti si stavano concentrando sulle azioni growth in genere sono caratterizzati da bilanci buoni ma non perfetti e da una crescita moderata proprio perché sono in una fase più o meno di maturità sono titoli che in genere si ritengono sottovalutati e il value investing che è appunto l'investimento nelle azioni value quindi nelle azioni di valore dove c'è quindi un gap tra quello che è il valore reale quindi il fair value dell'azione e il prezzo stesso dell'azione si caratterizza da il cosiddetto margine di sicurezza quindi per chi vuole investire in azioni una cosa che comparirà da qualsiasi parte è proprio questo margine di sicurezza che è lo sconto tra il prezzo che paghiamo per l'azione rispetto al suo fair value quindi il suo valore di equilibrio dell'azione che generalmente un margine di sicurezza buono è un 40-50% ovviamente può essere anche meno dipende poi dal livello di rischiosità che si vuole mettere all'interno del portafoglio e poi abbiamo le azioni income cioè quelle che producono reddito sono le azioni quelle più ricercate dall'investitore che vuole generare dei flussi di cassa dei flussi di cassa costanti perché magari utilizza l'investimento magari anche per pagare dei delle spese che ha e sono apprezzate ovviamente da tutti quegli investitori che ricercano una rendita periodica sono anche quelle più stabili quindi sono quelle azioni che tendenzialmente hanno un prezzo stabile un dividendo elevato quindi diciamo generalmente superiore al 3% 3-6% il dividendo deve essere affidabile cioè deve essere pagato con costanza negli anni passati e questo la rende proprio un'azione value e deve essere sostenibile ovviamente non deve essere il 100% di quello che guadagna l'azione ma deve essere una porzione degli utili quindi fondamentalmente questa è una classica azione cash cow che paga i dividendi è nella sua fase di maturità ed è tranquilla e come abbiamo visto prima la sostenibilità appunto del dividendo viene misurata con il payout ratio che è proprio uno degli indicatori che abbiamo visto prima non so Alessandro se volete aggiungere qualcosa sempre su questo punto no è tutto chiarissimo se è stata molto esaustiva perfetto andiamo a vedere alcuni metodi per valutare un'azienda perché ovviamente dopo aver visto il bilancio dopo aver visto tutti gli indicatori poi c'è il prezzo dell'azione e quindi dobbiamo capire se il prezzo innanzitutto qual è il valore dell'azione quindi qual è il fair value dell'azione e se il prezzo effettivamente è coerente con questo fair value ci sono diversi modelli con cui valutarlo ovviamente quelli che vediamo oggi sono i modelli base da cui poi ciascun analista ha diciamo costruito il suo modello perfetto quindi partiamo dai base però secondo me sono molto interessanti proprio perché ci fanno capire secondo quali modelli possiamo valutare il valore di un'azienda il primo è il dividend discount model quindi fondamentalmente qui con questo modello noi che cosa andiamo a dire andiamo a dire che il valore che noi diamo a un'azienda è il valore dei suoi dividendi futuri quindi ipotizziamo di essere un investitore di lungo periodo dove effettivamente il prezzo al cui va l'azione ci importa poco quello che conta è il dividendo quindi il flusso di dividendo futuro dell'azienda che andiamo ad attualizzare perché ovviamente non è perché spesso noi investitori quando andiamo ad investire magari nel breve medio periodo facciamo sempre i calcoli senza considerare l'attualizzazione del denaro perché un conto è avere 100 euro domani un conto è avere 100 euro tra 6 anni quindi effettivamente avranno un valore diverso specialmente in un contesto inflativo come questo quindi se il valore dato da tutto il flusso di dividendi attesi futuri delle azioni diviso il costo del capitale meno il tasso di crescita dei dividendi è superiore quindi se il valore dell'azione è superiore al prezzo allora l'andrò ad acquistare se è inferiore la vado a vendere o comunque non l'acquisto che cosa diciamo vediamo all'interno del valore dell'azione il flusso di dividendi attesi futuri per azioni attualizzati fondamentalmente quindi la parte sotto il costo del capitale il tasso di crescita dei dividendi è quella che è la nostra attualizzazione il costo del capitale è il costo che andiamo a pagare per remunerare il rischio dell'equity quindi è il costo che noi paghiamo agli azionisti il tasso di crescita dei dividendi in genere viene stimato come un modello che può essere un tasso di crescita perpetuo o stimato in maniera diversa ovviamente questa valutazione può essere fatta solo per le azioni che pagano dividendi quindi se siamo nella fase nel modello azione growth questo è un qualcosa che non riusciamo ad applicare è applicabile invece e secondo me è interessante da applicare per tutte quelle stock che sono nella fase di maturità vediamo vediamo poi il discounted cash flow io ho preso proprio un'immagine dal sito di Borsa Italiana che secondo me ha fatto benissimo ed è la cosa più semplice da capire il metodo del discounted cash flow fondamentalmente che cosa diciamo in questo caso non investiamo nell'azione solo perché ci paga dividendi ma noi quello che sappiamo è che ci pagherà dividendi se l'azione ha dei cash flow positivi quindi se ha dei flussi di cassa in entrata positivi quindi che cosa andiamo a calcolare andiamo a stimare a sommare tutti i flussi di cassa positivi attualizzati per il tasso risk free quindi fondamentalmente andiamo a valutare l'azione solo sulla base dei flussi di cassa che genererà poi è ovvio in quanto azionisti noi che cosa prevediamo che se il flusso di cassa è positivo ed è abbondante sicuramente ci verrà pagato il dividendo e quindi noi andremo a guadagnare quindi questo può essere interessante soprattutto per quelle azioni che non vanno a pagare il dividendo un altro parametro che secondo me è fondamentale questo perché è un modello il capital asset pricing model che deve entrare nella testa proprio perché rappresenta un po' la base di tutto quello che è l'investimento in finanza che cosa ci dice questo modello ci dice che noi possiamo avere il rendimento risk free quindi investire in un qualcosa che noi percepiamo come zero rischio quindi per esempio un'obbligazione di stato un titolo di stato possiamo avere il mercato che invece è nel nostro caso da italiani il Fuzzimib quindi tutto quello che racchiude un po' le stock italiane che ci darà un certo rendimento che è il rendimento del mercato e poi avremo le azioni del Fuzzimib quindi che cosa ci va a dire il capital asset pricing model ci dice che il rendimento atteso dell'investimento per esempio in Intesa San Paolo è uguale a il rendimento risk free quindi dell'investimento risk free più un parametro che chiamiamo beta che adesso andiamo a spiegare per la differenza tra il rendimento del mercato meno il rendimento risk free quindi la differenza tra il rendimento del mercato e il rendimento risk free è quanto di diverso mi devo aspettare se vado ad investire nel mercato rispetto al rendimento risk free cioè il premio per il rischio il beta che cos'è? è praticamente quanto è correlata la nostra azione a quell'indice di mercato quindi quello che possiamo considerare il rischio di mercato quindi se per esempio la correlazione è 1-1 e quindi se Intesa mi si muove esattamente uguale al Futsimib in quel caso mi devo aspettare un rendimento pari a quello del mercato se invece è inferiore mi devo aspettare un rendimento inferiore se è superiore a 1 un rendimento superiore a 1 questo è molto importante perché cosa ci dice? ci dice che fondamentalmente più rischio c'è questo è proprio il parametro più rischio più rendimento perché più rischio c'è nella nostra azione rispetto al mercato e rispetto al risk free più dovrò essere remunerato quindi più mi posso aspettare un rendimento sul mio investimento alto minore invece è la correlazione al mercato minore sarà il rendimento che mi devo aspettare quindi nel caso per esempio in cui il beta del mio investimento è 0 quindi ho un qualcosa che non è correlato per niente al mercato io vado a prendere esattamente il risk free quindi il mio rendimento atteso dall'investimento è esattamente pari al risk free se ho un qualcosa di superiore a 0 quindi un 0,1 sicuramente avrò anche un rendimento superiore perché? perché a quel punto sto rischiando più del risk free quindi diciamo che secondo me il capital asset pricing model è proprio la base di tutti i nostri investimenti sul beta secondo me è un esempio che hai fatto intesa a mercato italiano chiaramente no ma il beta può essere anche negativo quindi può essere anche quei titoli che si muovono al contrario rispetto al mercato quindi nelle casistiche del beta io solitamente ho beta negativo vuol dire che si muova al contrario quindi se il mercato fa più 1 il mio titolo fa meno 1 evidentemente ripeto su un mercato è difficile ma magari due titoli di mercati diversi o di settori diversi può essere che abbiano valori contrapposti un beta 0 appunto da un movimento nullo un beta compreso tra 0 e 1 significa che il mio titolo si muove dalla stessa parte rispetto al mercato con una forza minore ad esempio il mercato sale dell'1 intesa sale dello 0,4 oppure sopra l'1 significa che il mio titolo amplifica il movimento del mercato quindi con un beta pari a 2 il mercato si muove dell'1% intesa si muove del 2% quindi questo poi mi determina anche l'andamento appunto il rendimento appunto del singolo titolo il beta ha queste quattro diverse possibilità e cosa molto importante tra l'altro il beta noi possiamo calcolare rispetto a diversi parametri cioè noi quello che consideriamo il mercato tra virgolette lo scegliamo noi e questo secondo me è anche un po' il bello del capital asset pricing model cioè in generale dobbiamo considerare quello che è nel mercato quindi se andiamo a considerare l'intesa può essere il puts inib però in realtà la formula tendenzialmente con tutte le ipotesi del caso irrealizzabili però la formula mentalmente si applica su tutti i mercati quindi effettivamente quando andiamo poi a costruire un portafoglio il beta di mercato è una cosa che ci deve sempre rimanere in mente perché se andiamo a costruire una cosa che è correlata e quindi fondamentalmente se andiamo a ricomprarci tutte le azioni del puts inib dobbiamo avere almeno il rendimento del puts inib anche se ce lo andiamo a ricomprare con altri strumenti quindi è sempre un fattore da considerare proprio perché alla lunga ci può aiutare parliamo di alcuni approcci che secondo me possono essere interessanti proprio per chi investe nelle azioni sono gli approcci più base che esistono ma secondo me anche i più funzionali perché poi sono quelli che ti rimangono sempre in mente quando guardi un'azione sono due approcci di value investor Graham e Buffett che direi che non hanno bisogno di presentazioni una cosa interessante secondo me è appunto l'approccio quello del cigar butt che cos'è cioè fondamentalmente quando si fuma il sigaro rimane magari una piccola parte un piccolo tiro diciamo l'ultimo tiro prima che poi si esaurisce diciamo tutto il sigaro e quindi Graham che cosa diceva ed è anche una cosa che poi ha insegnato a Buffett diceva che ci sono alcune azioni che sono magari vicine alla fase finale della maturità quindi prima della fase di declino che hanno quel cigar butt quindi quell'ultima parte che ti permette di fare quell'ultimo tiro quindi di percorrere quell'ultimo miglio e che sono sottovalutate dal mercato perché magari il mercato le stima già molto vicine alla fase di declino ma magari hanno l'ultimo miglio prima della fase di declino e quindi l'idea di Graham qual è? è quella di prendere un portafoglio diversificato di stock problematiche quindi che hanno qualche problema che sono sottovalutate e che quindi diciamo se le mettiamo tutte insieme qualcuna andrà verso il declino ma qualcuna magari ce la fa e diciamo effettivamente si riprende e quindi va verso una ripresa quindi che cosa diceva Graham prendiamo tante stock le mettiamo tutte insieme e alcune non ce la faranno altre ce la faranno nel lungo periodo diciamo ci facciamo soldi quindi effettivamente nel lungo periodo questa è una strategia che porta rendimenti positivi proprio perché tra l'altro una cosa molto importante in genere queste problematiche di queste azioni tendono a risolvere a risolversi in 3-5 anni quindi poi effettivamente l'orizzonte temporale nel quale si risolvono permettono magari anche di rinvestire nuove stock quindi effettivamente è un portafoglio abbastanza interessante e Graham come vediamo diciamo nella quote di sotto aveva deciso proprio di dedicare praticamente tutto il suo portafoglio a queste stock proprio perché vedeva che nel lungo periodo questa strategia portava a risultati positivi che se ci pensiamo è un po' la stessa idea di chi investe in start-up quindi si fa un portafoglio magari di migliaia di start-up qualcuna magari anche tante effettivamente crollano muoiono e non vanno avanti ma c'è qualcuna che poi effettivamente era quella giusta diventa la Google di domani e quindi basta una diciamo per fare il rendimento di tutte le altre anche perché qual era il principio fondamentale comprarle sotto valore quindi quando le stock erano sottovalutate quindi quando effettivamente si stimava che l'azione non si potesse riprendere proprio perché aveva questi forti problemi diciamo questo è un po' un metodo che tra l'altro non è stato superato cioè un metodo che viene anche utilizzato da parecchi investitori ma in realtà Buffett partendo da lì ha un po' preso un'altra via perché lui è il value investor per definizione perché in realtà che cosa va a fare va a analizzare e secondo me questo è un metodo universale indipendentemente da chi è un value investor perché va a analizzare il business della società ovviamente se dobbiamo investire in un'azione e questa frase di Buffett io ce l'avrò sempre in mente cioè è meglio comprare un'azione straordinaria ad un prezzo equo che un'azione diciamo equa diciamo normale ad un prezzo straordinario perché perché effettivamente se andiamo a comprare un'azione straordinaria ad esempio Apple che è l'azione su cui ha investito molto capitale è un'azione che crescerà nel tempo e che quindi magari si rinnoverà avrà diverse aree di business e quella crescita andrà a foraggiare sempre di più sia il price increase quindi l'aumento del prezzo dell'azione ma anche ovviamente i dividendi allo stesso tempo se noi andiamo solo a puntare alla valutazione che è un po' il problema di chi investe in azione perché a un certo punto mentre magari all'inizio studiano bene tutti i business arriva sempre a un punto in cui dice ok adesso guardo il prezzo mi guardo gli indicatori e finisce lì invece no perché è sempre importante guardare il business delle diverse società anche perché solo analizzando il business secondo me sia chiaro quello che si sta facendo quindi che cosa fa invece solo se l'azione appartiene ad un business con forti potenzialità di crescita quindi effettivamente diciamo non il business in pura maturità che domani potrebbe andare in declino ma in un business che ha ancora potenzialità di crescita se l'azione ha un vantaggio competitivo sostenibile e duraturo e questa è la cosa che dicevamo prima quindi se hai delle barriere all'entrata da parte di nuovi player se hai un marchio affermato effettivamente questo rappresenta un vantaggio competitivo rispetto a tutti i tuoi peer e soprattutto oltre che sostenibile deve essere duraturo quindi il vantaggio competitivo per esempio che può avere una società farmaceutica che oggi ha un brevetto che magari scade tra cinque anni non ha un vantaggio competitivo duraturo perché tra cinque anni quel brevetto poi effettivamente è scaduto e chiunque può produrre quel farmaco e soprattutto una cosa molto importante la società è guidata da un management di elevata qualità affidabile e competente e questo ovviamente è importante perché se il management non è buono oltre che il caso fraudolento di pubblicare il falso in bilancio ovviamente può ledere alla crescita del business e quindi questo è sicuramente un parametro da valutare come valutarlo come investitori retail secondo me il modo più facile è andarsi a leggere o seguirsi proprio le trimestrali perché effettivamente tanti magari hanno anche il video che si può seguire tranquillamente oppure andarsi a leggere proprio i minutes delle trimestrali e vedere che cosa dice il management quindi in generale seguirsi le notizie è quello che dice il manager per capire anche qual è l'approccio al mercato se ci sono tutti questi parametri l'azione si apprezza nel lungo periodo perché è in grado di far espandere il business e questo porta ovviamente a risultati positivi nel medio e lungo periodo secondo me appunto la cosa che a me rimane di più è quella di è meglio comprare un'azione straordinaria ad un prezzo equo piuttosto che un'azione normale ad un prezzo straordinario secondo me questa è una cosa che diciamo su cui magari qualche investitore in azioni erra proprio perché dice questo è un ottimo prezzo magari per chi investe nel breve periodo può essere un trade di breve da rivendere immediatamente dopo magari se l'azione sale ma per chi investe chi è investitore di lungo periodo e lo vuole detenere nel metodo buy and hold di Buffett ha più senso investire su queste azioni qua hai citato Apple e anche nell'ultimo report che è uscito era comunque la prima azione che ha in portafoglio come peso ma poi le altre appunto sono colossi che è una storicità importante Coca-Cola parlavi prima mi ho fatto sorridere un'azienda farmaceutica che ha un brevetto che scade tra 5 anni Coca-Cola ad oggi non si sa ancora com'è fatta quindi ha sicuramente un vantaggio competitivo e comunque rimane rimane così a Bank of America quindi aziende molto capitalizzate molto storiche e queste sono se non ricordo me Apple è la prima sicuramente e Bank of America Coca-Cola le altre due su cui ha investito gran parte e mantiene in portafoglio semplicemente perché continuano comunque a generare valore assolutamente infatti secondo me può essere interessante ovviamente anche per chi inizia a investire a vedere che cosa hanno i diversi investitori in portafoglio quindi andarsi a seguire il portafoglio magari di Buffett che può essere sempre utile ovviamente non è che bisogna replicarlo però può essere utile ecco faccio una precisazione su questo perché i dati spiegatamente che abbiamo pubblicati ad esempio mi sembra sia 45 giorni dopo la chiusura del trimestre quindi ad esempio entro il 15 di febbraio c'è l'obbligo di dover comprare al mercato la composizione del portafoglio in questo caso Berkshire Hathaway l'azienda di Buffett però se noi vediamo i dati al 15 febbraio è inutile andare a replicare quel portafoglio lì al 15 febbraio perché sono dati comunque passati quindi se oggi prendo il portafoglio di Buffett o Dalio ho dei prezzi di acquisto oggi che sono ben diversi da quelli a cui ce l'hanno in carico loro quindi può essere che se lo compro oggi faccio performance ben diverse da quelle che hanno fatto quindi mi va bene analizzarla e capire come sta muovendo ma non ho mai modo di sapere quando loro schiacciano il bottone di acquisto e vendita quindi ripeto posso analizzarla nel tempo capire cosa ha portato a fare una scelta quindi in questo questo trimestre ha smobilizzato Carnival e comprato Bank of America in quota parte perché il mercato si è mosso così piuttosto che altri movimenti quindi capire la logica va bene se vado a replicarli replico sempre con almeno tre mesi di ritardo quindi questo infatti è un po' è un po' il problema piuttosto comprarsi Berkshire Hathaway e non pensarci più su questo grafico secondo me è interessante proprio far capire la differenza tra i due approcci quindi il Seagrbat e diciamo le stocca la Buffett proprio perché il Seagrbat ha questo ultimo tiro quindi si compra in un momento di forte crisi della società proprio per puntare a questa ultima crescita prima del prima del declino mentre Buffett va a comprare e diciamo tende a comprare in un punto tendenzialmente di minimo ma magari può comprare anche non al minimo ovviamente poi quando si muove diventa automaticamente un minimo però effettivamente va a comprare proprio perché crede nella risalita della stock che è appunto di alta qualità e che quindi può puntare alla crescita come diciamo abbiamo accennato prima per un investitore che investe in azioni o qualsiasi strumento legato alle azioni quindi certificati derivati opzioni la diversificazione è di fondamentale importanza cioè non mettere tutte le proprie uova in un unico paniere ma dividerlo in più panieri questo perché perché effettivamente come abbiamo visto le diverse strategie ne abbiamo viste due ad esempio ma le diverse strategie dei diversi se vogliamo anche guru e e dei degli investitori più forti e più bravi della storia effettivamente si basano tutte sulla diversificazione quindi diciamo è un po' sulla legge dei grandi numeri no più cerchiamo di investire diversificare più abbiamo possibilità effettivamente di guadagnare quindi la diversificazione è di importanza fondamentale noi possiamo essere bravissimi a scegliere le azioni ma uno il mercato può essere irrazionale no più di quanto noi riusciamo ad esserlo e effettivamente magari per quanto siamo bravi a scegliere le azioni il mercato non è bravo come noi no e quindi effettivamente non le prezza allo stesso modo quindi avere un paniere diversificato e puntare a più azioni ci aiuta perché da un lato ovviamente le azioni possono alcune ne potranno scendere ma altre saliranno e quindi ci aiuta a mantenere un portafoglio che nel lungo periodo sicuramente genera rendimento faccio un esempio qui è Intesa San Paolo e Fuzzimib quindi fondamentalmente andiamo a paragonare un indice contro un'azione e vediamo poi nella prossima puntata proprio che cos'è un indice e come investire sugli indici e qui potremmo dire ok diciamo effettivamente Intesa è meglio del Fuzzimib allora tanto valeva che mettevo tutti i soldi su Intesa no? perché effettivamente ha guadagnato più anzi diciamo ha perso meno del del Fuzzimib in realtà questo stesso grafico potrebbe essere fatto con Saipem e quindi effettivamente mentre all'inizio potevamo dire investiamo tutti i soldi su Saipem perché guadagnavamo adesso come vediamo effettivamente conveniva più investire su Fuzzimib quindi l'idea è che diversificare aiuta perché potremmo da un lato essere nella situazione Intesa ma dall'altro essere nella situazione Saipem quindi valutiamo bene e cerchiamo di diversificare il più possibile questo è l'argomento poi del prossimo appuntamento giovedì 24 febbraio quindi giovedì di questa settimana che approfondiremo con Gabriele Belelli quindi andremo ad approfondire gli indici ma soprattutto gli ETF che sono lo strumento utilizzato per investire su indici ma in generale preferito da alcuni investitori quindi è sicuramente interessante approfondirlo così come le azioni ovviamente se ci sono domande magari vi vengono in mente anche successivamente al webinar vi ricordo il gruppo Facebook di Free Finance dove vi potete confrontare oltre che con noi e quindi farci la domanda direttamente anche con altri investitori e io ringrazio Alessandro ancora una volta per averci accompagnato in questo percorso che speriamo che piano piano diventi sempre più approfondito e grazie mille Alessandro e grazie a te Francesca dell'invito e appunto se ci possono domande comunque scrivete pure noi il gruppo che o io Francesca o comunque anche gli altri investitori siamo sempre a disposizione per risolvere i dubbi grazie mille e auguro a tutti una buona serata e al prossimo appuntamento